Commozione e cordoglio hanno accompagnato l'uscita della chiesa del fereto del 33enne modicano Stefano Rizza, deceduto domenica pomeriggio in seguito ad un incidente stradale autonomo, mentre era in sella alla sua motocicletta. Il violento impatto non aveva lasciato scampo al giovane, nemmeno i mezzi di soccorso intervenuti non avevano potuto che constatarne il decesso. Un'altra giovane vita modicana spezzata in modo violento che lascia la città tutta tonita e avvolta nel dolore. In tanti questa mattina si sono stretti intorno alla famiglia del giovane durante i funerali celebrati nella chiesa del Sacro Cuore da Don Giuseppe Di Stefano, che nell'Omelia ha parlato del giovane e della sua passione per la motocicletta e per la vita, rivolgendo le parole di consolazione ad una famiglia distrutta dal dolore ma forte nella fede. Il silenzio perpetuo durante la funzione è stato rotto solo dalle mani che battendo scroscianti hanno accompagnato l'ultimo viaggio del giovane. Il padre ha ringraziato tutti i presenti, tra cui tanti, tantissimi giovani, con il volto segnato dalle lacrime. Tra di loro anche molti amici, con cui condivideva la passione della motocicletta, che è stata per lui fatale domenica mentre tornava da Palazzolo, proprio in sella alla sua moto. Il giovane, per cause da accertare, avrebbe all'improvviso perso il controllo della moto, rovinando malamente al suolo. Lo schianto fatale contro il guardrail e il devastante impatto con l'asfalto è avvenuto in prossimità di una curva piuttosto insidiosa e non è escluso che il 33enne abbia perso il controllo del motociclo proprio nell'abordarla. Neanche il casco protettivo è bastato a salvare la vita al centauro modicano. Proprio poche decine di minuti prima dell'incidente mortale, aveva postato una foto del suo profilo Facebook relativa proprio alla trasferta nel Siracusano, in sella alla sua inseparabile motocicletta. Oggi per tutti è il giorno del silenzio, del dolore e delle lacrime.